Tutti al voto. Contestualmente alle possibili elezioni politiche anticipate potrebbero essere interessati al voto anche la provincia di Salerno ed alcuni comuni importanti come Nociara Inferiore e Pagani. Nella logica del risparmio per l'imperante clima di austerity, l'indicazione sarebbe quella di un accorpamento delle scadenze elettorali e delle amministrative con le politiche. E se per il comune di Nociara Inferiore attualmente commissariato la prima data utile sarebbe l'ipotesi naturale, per Palazzo Sant'Agostino e per il comune di Pagani ci sarebbe più di una ragione perché si torni anticipatamente al voto. Nonostante le intenzioni iniziali del presidente Demondo Cirielli che sulle ali dell'entusiasmo si era detto pronto ad optare per restare alla guida di Palazzo Sant'Agostino rinunciando al suo ruolo di deputato, diventano sempre più insistenti le voci su un suo ripensamento. Le difficoltà probabilmente di rapportarsi alla politica regionale per la provincia di Salerno, costretta sempre a combattere la logica del napolicentrismo, ma anche la presa d'atto del maggior peso nelle scelte territoriali attraverso un ruolo romano, potrebbero far decidere, anche se con sofferenza, di abdicare in favore di una candidatura al Parlamento. La posta in gioco è alta tra candidature utili in Parlamento, a Palazzo Sant'Agostino e nei comuni e con l'ipotesi di una nuova campagna elettorale già ci sono avvisaglie di fibrillazione politica per la successione a Cirielli, tanto a destra che a sinistra. In pole position anche il sindaco di Salerno De Luca, combattuto tra il mantenere la leadership da sindaco, tanto amato dai suoi concittadini, e l'approdare a Palazzo Sant'Agostino, per affermare che il suo sistema amministrativo potrebbe funzionare non solo al comune, ma anche in enti diversi come provincia e regione. A chiedergli d'altronde di scendere in campo sarebbe stato il suo stesso partito politico. Da un lato De Luca per il centro-sinistra dunque, e dall'altro probabilmente un nome vicino al presidente Cirielli, che risponderebbe alla maggioranza del PDL che Cirielli ha alimentato in tanti anni di presenza salernitana. Intanto la prima mossa potrebbe essere quel rimpasto in giunta del quale da tempo si parla, e già la prossima settimana il turnover degli assessori potrebbe essere ufficializzato per consentire al fedelissimo Antonio Iannone di ricoprire la carica di vicepresidente che reggerebbe le sorti dell'ente fino a nuove elezioni in caso di dimissioni anticipate di Cirielli. Scenari tutti da scoprire, e che seppur ipotizzati non saranno di facile soluzione per i tanti interessi in gioco. Se la conferma della confluenza di dati arrivasse, anche Fabio Petrelli, sindaco facente funzione a Pagani, potrebbe decidere, dopo aver sostenuto stranamente un peso più che oneroso, di restituire agli elettori la possibilità di dire la loro, attraverso la più democratica forza di partecipazione, il voto.